Se state pensando di trasferirvi in Tunisia, una delle prime domande che vi farete sarà quale banca scegliere per accreditare la pensione? Sicuramente chiederete consigli a chi già vive qui, ascoltando diverse opinioni basate sulle loro esperienze personali. Ma attenzione, non tutte le banche offrono lo stesso servizio anche in funzione della località in cui si trovano. Alcune infatti potrebbero darvi molto di più o molto di meno di quanto vi aspettate. Dopo due anni vissuti in Tunisia e un bagaglio di esperienze mie e di tanti italiani che mi contattano, sono qui per darvi un quadro chiaro e completo. Questo è il video numero 4 della guida completa al trasferimento in Tunisia e seguitelo fino alla fine perché senza alcuni dettagli rischiate di perdere informazioni preziosa. Vi parlerò delle banche che realmente fanno la differenza, soprattutto per chi cerca un ottimo servizio tecnologico e di home banking perché anche se solo in parte è arrivato anche qui in Tunisia. Seguirà un altro video sempre sulle banche ma questa volta sulla procedura di accredito della pensione, rilascio della dichiarazione per il permesso di soggiorno eccetera. Pronti? Sono sicuro che alcuni nomi di banche vi meraviglieranno. Permettetevi di chiedervi un piacere prima di continuare. Molti di voi guardano i miei video, li trovano utili e interessanti ma non si iscrivono al canale e non mettono nemmeno un like. Questo per me è un problema perché rallenta la crescita del canale e mi impedisce di creare contenuti sempre più esclusivi e interessanti. Mi regalate pochi secondi del vostro tempo? Registratevi al canale cliccando proprio qui in basso sulla scritta iscriviti. Dovrete farlo solo una volta e attivate le campanelline così da non perdere i nuovi video. Poi chiaramente se il video vi piace cliccate sul pollice in su. Tutto gratis e veloce per voi ma fondamentale, davvero molto fondamentale per me. Posso contarci? Grazie. Negli ultimi anni, dal periodo in cui ho pubblicato i primi video sulle banche, si sono fatti sempre passi più avanti verso uno sviluppo dell'home banking. Anche se quasi tutte le banche in Tunisia si stanno attrezzando per offrire servizi di digitalizzazione sempre più efficaci, alcune sono maggiormente specializzate in questo settore rispetto ad altre. Se siete quindi amanti dei servizi online e cercate comunque la banca più moderna ed avanzata in tal senso, allora questo è il video che cercavate. Vedremo infatti quali sono le banche migliori in Tunisia dal punto di vista dei servizi tecnologici. Vedremo quali di queste offrono esperienze avanzate e quali invece stanno ancora cercando di mettersi al passo. Partiamo da Amen Bank, una banca completamente tunisina fondata nel 1966. Questa banca è considerata una delle più innovative per quanto riguarda i servizi digitali. Offre una piattaforma online mobile molto avanzata con una vasta gamma di funzioni tra cui trasferimenti di fondi, pagamenti di fatture, gestione delle carte di credito e debito, bonifici e molto altro. Amen Bank è stata anche una delle prime banche a implementare i servizi di mbanking completi, garantendo ai suoi clienti un accesso rapido e sicuro ai propri conti. Un'altra banca da tenere d'occhio è la BIAT Bank International Arab de Tunis, anch'essa tunisina, fondata nel 1976. BIAT è una delle banche più grandi del paese e offre una piattaforma digitale ben sviluppata. La sua app mobile consente non solo la gestione dei conti, ma anche l'accesso a prestiti per chi può richiederli, investimenti e altri servizi finanziari. Se state cercando una banca in Tunisia che vi offre un'esperienza digitale solida e variegata, BIAT è sicuramente tra le scelte migliori. Poi abbiamo Atijari Bank, fondata nel 1968 e parte del gruppo marocchino Atijari Wafa Bank, una delle più grandi del Nord Africa. Questa banca ha una piattaforma digitale che include un'app mobile ben progettata, oltre a servizi di endconverse e pagamento digitale. La loro offerta tecnologica è in crescita e stanno investendo molto per competere con le più moderne banche del paese. La Banque Nationale Agricole o BNA, fondata nel 1959, è un'altra banca tunisina che sta migliorando rapidamente i suoi servizi digitali. Sebbene non sia ancora a livello di Amen Bank o BIAT, la BNA offre già una buona piattaforma di mobile banking con funzionalità come il pagamento delle bollette, i bonifici e la gestione dei conti. L'attenzione recente della banca è stata rivolta a modernizzare i suoi servizi per diventare più competitiva nel mercato digitale. In questo video non ho indicato ovviamente tutte le banche presenti, molte delle quali, anche se tunisine d'origine, hanno diversi capitali stranieri come Francia, Arabia, Bahrain, Giordania. Mi sono limitato a indicarvi quelli che sicuramente sono al top per servizi tecnologici. Passiamo ora a due banche che, sebbene solide dal punto di vista dei servizi tradizionali, non sono ancora a livello delle prime due citate in termini di innovazione tecnologica. La banca dell'Abitat o BH Bank, fondata nel 1989, è una banca tunisina conosciuta principalmente per il suo ruolo nel settore finanziario immobiliare. Anche se sta iniziando a inserire dei servizi online banking e app mobile, la BN è meno avanzata rispetto a banche come Amen o Biat. Tuttavia si sta impegnando a migliorare i suoi servizi digitali, cercando di raggiungere il livello delle concorrenti. Soprattutto prevenire incontro alle esigenze dei clienti locali e dei residenti stranieri. Infine c'è la Società Tunisienne Bank o STB Bank, fondata nel 1957. Anche questa è una banca tunisina con una lunga storia ed è conosciuta per il suo ruolo nel finanziamento pubblico e industriale. La STB ha avviato una fase di modernizzazione dei propri servizi digitali e attualmente offre online banking e app mobile per la gestione dei conti e altre operazioni di base. Tuttavia come la BH Bank, anche la STB è un po' indietro rispetto alle banche più tecnologiche del paese, ma sta cercando di colmare il divario. Qualche consiglio personale prima di scegliere quella che sarà la vostra banca, considerando la Amen Bank e la Biat tra le più tecnologicamente avanzate? Chiedete informazioni sugli accordi, se ce ne sono, con le banche italiane per bonifici in modo da agevolarne il trasferimento ed avere costi minori. Ricordate infatti che un bonifico fino a 5.000 euro costa mediamente tra i 15 e i 35 euro circa. Chiedete informazioni sull'utilizzo della carta di debito per pagamenti di servizi online anche internazionali. Ho detto ovviamente carta di debito perché quella che vi forniscono non è una carta di credito in quanto agli stranieri non è consentito beneficiare di prestiti o per l'appunto crediti. Alcune banche devono abilitare la carta per il pagamento online e lo fanno su richiesta per periodi di tempo limitati da richiedere ogni volta. Altri invece l'abilitano definitivamente, ma controllate sempre. Molti servizi internazionali che prevedono il pagamento online non accetteranno la banca e in questo caso c'è ben poco da fare. Fatemi mostrare l'app bancaria e valutatene il funzionamento in termini di chiarezza e lingue per l'utilizzo, anche se quasi in tutte l'italiano non lo troverete mai. Verificate la presenza di filiali nella vostra zona, visitatele e guardatevi intorno per capire se può garantirvi un'assistenza adeguata anche in termini di personale e lingue parlate. Vi parlo della mia esperienza. Io ad Amametto ho aperto il conto bancario presso la STB e quando mi sono trasferito a SUS ho trovato un'ottima disponibilità della stessa banca presso la filiale di Portel Cantawi, ma qui a Monastir la STB mi ha deluso e non poco, trovandoli più delle volte il bancomat non funzionante specialmente la sera. In conclusione, se cercate banche in Tunisia che offrano esperienze digitali di alto livello, Amem Bank, BIAT e Atticari Bank sono tra le migliori opzioni. Se invece vi trovate a lavorare con BH o STB Bank, sappiate che queste stanno ancora migliorando i propri servizi, quindi potremmo vedere ulteriori sviluppi nel prossimo futuro. Ma principalmente valutate le banche anche in base alla località in cui vivete, potreste trovare qualità del servizio differenti. Ricordate che cambiare la banca per ricevere la vostra pensione qui in Tunisia è estremamente facile. Potete farlo presso un patronato gratuitamente oppure voi stessi se avete un poco di dimestichezza con l'applicazione MyInps. Io personalmente ho cambiato da pochissimo la banca e sono passato alla BIAT che almeno qui a Monastir vedo più moderna ed efficiente. Se avete qualche informazione che ritenete utile, scrivetela qui sotto nei commenti. In Tunisia regole e disposizioni cambiano spessissimo, sarà utile per tutti. Al prossimo video della guida completa al trasferimento in Tunisia. Ciao! 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 Grazie.